Ci sono delle sensazioni che ti cambiano il percepito, ci sono delle modifiche che ti fanno interagire con il mondo che hai attorno e ci sono delle situazioni in cui dopo mesi di distanza non vuoi ancora rassegnarti al cambiamento. Oggi partiamo da una storia che parte 15 anni fa e che forse oggi dobbiamo affrontare. Nel 2008 non viene lanciata semplicemente la seconda generazione di iPhone ma c'è un qualcosa di diverso che entra a far parte delle vite di quelle persone che investono in quella che era una tecnologia non proprio diffusa perché nel 2008 viene lanciata la cosiddetta App Economy viene lanciato l'App Store di Apple con il primo aggiornamento di iPhone OS e quindi arriva un nuovo modo di interagire con il web ed entra a far parte della vita di ciascuno di noi la figura dello sviluppatore. Entrano a far parte della nostra vita le App. Esattamente tutte quelle App che oggi vediamo come degli elementi fondamentali 15 anni fa non c'erano o meglio erano semplicemente agli albori. Io arrivo due anni dopo però c'è sempre stata un'applicazione in basso a destra nella mia home screen e che ad oggi io non mi rassegno a salutare. E quell'applicazione forse l'avrete capito è Tweetbot. E qua secondo me dobbiamo iniziare ad affrontare un argomento perché Tweetbot è la mia prima app del 2023. Ed è la mia prima app perché non la sto più usando e quando ti manca qualcosa che davi per scontato entra a far parte del tuo modo di pensare quella che è la figura che c'era dietro quel prodotto. E quindi nella puntata in cui parliamo delle 5 applicazioni che ho più amato nel 2023 la mia prima applicazione per assurdo è un'app che non posso più usare che nessuno di noi può più avere in funzione sul proprio smartphone sul proprio tablet, sul proprio computer. E parlo di questa triplice funzione di Tweetbot perché era la cosa che più mi faceva amare la piattaforma e qua veniamo alla domanda che secondo me dobbiamo portarci avanti nel corso di tutto l'episodio ma dobbiamo rendere conto anche poi al modo che tutti noi abbiamo di utilizzare le piattaforme che è chi nel 2023 deve essere lo sviluppatore perché Poladad, perché Tweetbot era una piccola società che sviluppava il vestito che più si adattava alle mie esigenze e tutto questo ragionamento lo potremmo anche riportare su Apollo in correlazione con Reddit perché quest'anno non è stata solamente la figura di Elon Musk quella cattiva che ci sta impedendo di utilizzare Tweetbot ma è stata anche Reddit a spegnere l'API e quindi un'applicazione come Apollo in qualche modo è stata dovuta far sparire controvoglia dai nostri dispositivi e Tweetbot da una parte e Apollo dall'altra è proprio l'emblema della figura dello sviluppatore perché quando fai un lavoro artigianale minuzioso come Tweetbot e come Apollo ti rendi conto della potenza di un team molto piccolo che ti fa percepire il prodotto finale come qualcosa di diverso perché i post che posso leggere oggi su X i tweet che potevo leggere con il client nativo sono gli stessi che potevo leggere con Tweetbot ma con Tweetbot li potevo leggere in un'altra forma potevo avere tutti i Tweet sincronizzati con i miei dispositivi potevo avere le liste pinnate a destra dei miei iPad che mi permettevano di fluire al meglio della piattaforma di non perdermi nessun contenuto cosa che purtroppo io oggi faccio con X ed è una sensazione strana quella di continuare ad utilizzare un'applicazione che è la stessa e che nel tempo però è cambiata così tanto perché è vero è persino cambiato il nome Elon Musk ha snaturato quella che è la lore di Twitter non si chiama più Twitter si chiama X non si chiamano più tweet si chiamano post non si retweeta si reposta e quindi sta cambiando anche la terminologia però anche nei primi giorni in cui io potevo utilizzare ancora l'applicazione azzurra con l'uccellino avevo ancora il nido come home e non avevo più quella casa stilizzata quindi avevo veramente Twitter come ideato da Jack Dorsey nel tempo però mi sono reso conto di come il mio modo di utilizzare l'applicazione di Twitter prima e di X poi mi stia pesando ed è molto strano perché Twitter per me è sempre stato il social di riferimento e mi sono reso conto di quanto gli sviluppatori siano fondamentali nel corso di questo 2023 per una cosa che purtroppo ad oggi non posso più utilizzare e dico ad oggi perché spero che Elon Musk dicendo ok voglio guadagnare tanti soldi dica ok adesso noi ti stiamo dando la possibilità di pagare 250 euro all'anno per utilizzare X in maniera costante senza pubblicità con mille funzioni in più se per quei 250 euro Elon Musk mi diceste Jacopo tu puoi tornare ad utilizzare Tweetbot io forse e con forse intendo c'è un buon 90% che io dia quei 250 euro che Elon Musk chiede per avere Twitter senza esclusione di colpi anzi X senza pubblicità con mille funzioni in più con la possibilità di avere in anteprima il suo LLM quindi è una sensazione strana non avere più Twitter e parlo di tutto questo e ripeto Twitter è comunque la mia prima app del 2023 perché da questa mancanza poi inizia la vera puntata perché come al solito vi racconto le mie 5 app preferite dell'anno la prima purtroppo ve l'ho dovuto raccontare così ma la seconda è ovviamente l'erede naturale di Tweetbot perché nel corso del 2023 è arrivata finalmente Ivory che è la versione in salsa Mastodon di Twitter con Tweetbot e qua ecco che iniziano i problemi perché ho un account Mastodon che ovviamente trovate linkati nelle note dell'episodio come tutti i miei account ho un account Blue Sky che posso utilizzare attraverso Ivory e tutto questo io lo leggo indissolubilmente a Tweetbot perché mi dà la stessa sensazione e utilizzando molto più Twitter di Mastodon in maniera attiva e ovviamente dovendo per forza utilizzare le app native lo faccio con molto più risentimento e quando apro Ivory e lo apro quotidianamente su tutti i miei dispositivi mi rendo conto di quanto sia bello leggere i social quindi leggo molto più su Ivory che su Twitter ma purtroppo ad oggi per quella sensazione piacevole di scrivere che ho su Twitter mi si contrapponga la sensazione piacevole che ho di leggere su Mastodon voglio iniziare ad utilizzare Mastodon me lo do come buon proposito per il 2024 però mi piace troppo leggere Mastodon attraverso Ivory perché Ivory è tutto quello che Tweetbot non può purtroppo più essere hanno fatto un lavoro di rifinitura grafica eccezionale e mi sono reso conto utilizzando altri client di Twitter che purtroppo sono stati uccisi solamente in un secondo momento Ivory 2 prima e Spring for Twitter poi che Tweetbot sarebbe potuto crescere ancora di più perché ad esempio dava la possibilità di votare i post i poll quindi in qualche modo quando avevi sondaggi potevi votarli con un'applicazione di terze parti Twitter stava in qualche modo quindi rilasciando le API e quindi Tweetbot avrebbe potuto implementarlo in un secondo momento e c'è la piacevolezza che ancora oggi mi dà Ivory e quindi la mia prima applicazione di questo 2023 è indubbiamente Ivory perché il lavoro di Tweetbot è eccezionale la seconda app è Threads app che ho potuto utilizzare solamente in parte perché a luglio credo perché mi ricordo un caldo eccezionale in sala d'aspetto in ospedale in cui ho scaricato la versione beta con TestFlight e che abbiamo potuto utilizzare anche noi in un'Unione Europea un'applicazione che verrà lanciata in maniera ufficiale domani a mezzogiorno e devo mettere Threads non perché io voglia utilizzare Threads poi lo utilizzerò ma perché indubbiamente è la prima risposta positiva di Zuckerberg a qualcosa credo che Instagram debba iniziare ad essere qualcosa di diverso e lo sta facendo attraverso la possibilità di avere un'applicazione per iPad che arriverà tra qualche tempo e lo sta facendo attraverso Threads perché credo che lo scontento che in questi mesi si può leggere con l'abbandono parziale di X da parte di alcuni utenti debba in un modo o nell'altro essere percepito da qualcuno di grande e quel qualcuno di grande non può essere Mastodon che come ho detto pochi istanti fa nel mio caso rappresenta comunque un potenziale quello che Kenobita ha fatto con livello segreto con l'istanza dove io ho il mio account è qualcosa di molto positivo perché porta veramente una sensazione piacevole di utilizzo seguo ovviamente della gente su Mastodon però mi piace scoprire quello che la gente vuole dire in quella che forse è la realtà fatata che Kenobit sta costruendo con livello segreto e con quello che in qualche modo è la disintermediazione dalle principali piattaforme ad esempio lui ha iniziato un progetto che è Telekinobit con una bellissima chiacchierata con Sio vi lascio il link nelle note dell'episodio link a Telekinobit che è una piattaforma di video streaming e di video on demand che non sono né Twitch né YouTube ha la possibilità di essere ascoltato avverso un client di podcast perché da il feed rss ma il podcast non è ostato su Spreaker su Anchor e sulle altre piattaforme è un progetto indipendente per quello che oggi rappresenta secondo me la volontà che deve esserci per forza dietro al riappropriarci di quello che è nostro e ripeto vi lascio il link a Nuovo Barretto Utopia che è appunto il format di Telekinobit vi lascio e vi consiglio sia la chiacchierata con Sio che anche quella con Bebo dello Stato Sociale perché quella secondo me è la via che la gente deve prendere per renderci conto di quello che è internet e secondo me Mastodon è il posto perfetto e quindi per quello vi dicevo prima mi piace passare il tempo a leggere quello che c'è su Mastodon però purtroppo la gente non va su Mastodon leggo di molte lamentele riguardo a ext ma poi la gente continua a scrivere su ex io semplicemente mi sto dicendo sperimentiamo e credo che Instagram per la prima volta sia alla ricerca di qualcosa di nuovo che forse sta arrivando nel posto giusto al momento giusto e quindi Threads io non dico no non lo proviamo perché credo che sia necessariamente un qualcosa di necessario perché per la crescita ad oggi non c'è pubblicità e credo non ci sarà per il primo anno per i primi due anni è un social che sta venendo costruito nel tempo perché è qualcosa che è stato lanciato quest'anno esce domani in Europa e quindi credo sia necessaria la voglia da parte di tutti noi di trovare un posto che per esempio potrebbe essere largo come una volta era largo Twitter non vedo l'ora che esca domani in Europa per vedere la risposta del pubblico e non vedo l'ora che esca in Europa per vedere se con una risposta pubblica e soprattutto una risposta ampia di una nuova tipologia di utenza ovvero quella europea possa crescere la piattaforma in sé che è la cosa necessaria perché se tra un anno quando farò la puntata sulle applicazioni del 2024 non ci sarà ancora l'app di Threads per iPad ecco che probabilmente io non la utilizzerò più perché è necessaria perché Mosseri ha detto che in questo momento stanno lavorando sull'app nativa per iPad di Instagram perché sta arrivando l'app di Whatsapp nativa per iPad e credo che il gruppo Meta finalmente stia andando nella giusta direzione e Threads forse è una delle applicazioni che più si merita una versione per tablet perché il tablet è il dispositivo perfetto per la lettura tante persone quando mi vedono addirittura con due iPad dicono cosa te ne fai dell'iPad hai un telefono in realtà ne ho due però quando uso un iPad voglio mettere tutte le mie attenzioni su quel dispositivo soprattutto innamorandomi ancora una volta e ogni giorno di più dell'iPad mini e non vedendo l'ora di avere un iPad proprio piccolo mi rendo conto che un prodotto compatto mi stia servendo per leggere sto leggendo di più ho fatto un abbonamento al Corriere della Sera che leggo all'80% sull'iPad mini vi parlerò a breve della mia quarta applicazione del 2023 che è un'applicazione di lettura però Threads esattamente come Ivory esattamente come Tweetbot esattamente come X e come appunto le applicazioni native per iPad mi permetterà di leggere ancor meglio i contenuti perché l'iPad mini per quanto mi riguarda è l'iPad di consultazione e quando io voglio consultare qualcosa non lo voglio fare in maniera veloce dal telefono perché le app sul telefono per quanto mi riguarda sono qualcosa di immediato difficilmente io quando devo mandare un messaggio lo faccio attraverso l'iPhone cioè ovviamente la risposta fugace la risposta veloce la faccio dal telefono però quando devo fare un pensiero più strutturato prendo un iPad prendo l'iPad Pro o il Mac e scrivo e questa secondo me è la reale funzione di un'app come Threads come Ivory e quindi Mastodon e come in questo caso X perché stiamo andando in quella direzione stiamo andando alla ricerca dell'applicazione che era Twitter e che non si sa più qual è non si sa se è X non si sa se è Threads non si sa se è Mastodon Mastodon ad esempio durante il festival di Sanremo ho provato a vedere se evidentemente c'era il commento costante e non c'è vedremo se Threads porterà con il prossimo anno la stessa voglia della gente di andare ad analizzare tutto oppure se Threads sarà quell'applicazione che indubbiamente servirà per avere la notizia in tempo reale hashtag terremoto per intenderci e io questa cosa ad oggi non riesco a vederla però credo che la direzione sia quella quindi la mia terza applicazione del 2023 è Threads l'ho provata funziona abbastanza bene domani esce in Europa e quindi alle 12 noi saremo tutti pronti a scaricarla la mia quarta app in realtà si discosta poco da Threads perché Threads è un'applicazione di Instagram e Instagram che una volta non era di meta è stata fondata tra gli altri dagli sviluppatori dallo sviluppatore che c'è dietro Artifax Artifax è un'applicazione che unisce la lettura con quello che nel 2023 sta diventando una costante pensiamo al social degli ultimi tempi sicuramente non è Instagram sicuramente non è X sicuramente non sarà Threads il social degli ultimi anni è TikTok punto fine mia mamma usa TikTok mio papà usa TikTok e mia madre e mio padre sono due persone agli antipodi e usano la stessa piattaforma per il potere dell'algoritmo l'algoritmo che negli anni ha fatto sviluppare aziende come Alphabet grazie a Google e ovviamente YouTube ma soprattutto sta facendo in questi anni sviluppare un'applicazione come TikTok è quella cosa che mi ha fatto innamorare di Artifax perché è un'applicazione che ti regala un feed praticamente di notizie basate sui contenuti che leggi è semplicemente quello che vorrei facesse un Apple News che però in Italia non c'è ancora è una cosa che per esempio Big News non può fare perché come vi ho detto nell'episodio riguardanti le app Big News non è nient'altro che un modo più fancy un modo più carino per visualizzare il proprio feed RSS Artifax che ad oggi è disponibile solo in lingua inglese invece fa esattamente quello che ti aspetti faccia un'applicazione del genere ho iniziato a usarla credo durante l'estate ho messo i miei interessi e semplicemente poi ho iniziato a leggere gli articoli che interessavano a me ecco che ad oggi quando io apro Artifax ho solamente articoli che voglio leggere esattamente come quando noi apriamo TikTok guardiamo la maggior parte dei contenuti perché sono contenuti che si adattano al nostro modo di fare e quindi se io prendo il mio TikTok e lo do in mano a mio papà probabilmente lui scrollerebbe tutto perché lui ha un algoritmo totalmente diverso rispetto ad esempio a YouTube che manda quasi tutti gli stessi video in tendenza cioè sulla home di YouTube ci sono tanti video che la piattaforma spinge e che probabilmente in questo momento li abbiamo tutti Artifax invece esattamente come TikTok costruisce una piattaforma in grado di sfruttare l'algoritmo al 100% per rendere conto a tutti noi delle notizie che ci interessano facendo in modo che nessuna notizia tu la possa in qualche modo rifiutare perché è qualcosa che nel corso del 2023 vuoi per forza leggere e quindi ad esempio io ho tante notizie che riguardano l'iPad ho tante notizie che riguardano la geopolitica ho poche notizie che ad esempio riguardano la politica americana perché ovviamente è sviluppata per il popolo americano per quanto mi riguarda sono interessato ad esempio alle elezioni del novembre del 2024 però non è che mi interessa la dichiarazione del ministro dei trasporti americano e quindi ad esempio applicazioni come artifacts in questo caso mi amplificano più notizie che voglio leggere e quindi veramente mi fanno cucire addosso una rassegna stampa e io non vedo l'ora di avere artifacts che in qualche modo prende in pasto anche fonti italiane perché vuol dire avere una rassegna stampa quotidiana fatta di notizie che interessano esclusivamente a noi e quindi ad esempio esattamente come io prendo il mio tiktok e non scrollo i video di gattini piccolissimi che non riesco a scrollare non riesco nemmeno a scrollare tutti gli articoli che mi parlano del prossimo ipod pro wink wink quindi da questo punto di vista la mia quarta applicazione che vi consiglio tantissimo di scaricare è artifacts la mia quinta ed ultima applicazione per questo 2023 è overcast è un'applicazione che non ho scaricato per la prima volta quest'anno anzi l'ho scaricata il 17 ottobre del 2015 però nel tempo io devo essere sincero l'ho sempre scantonata ero molto fedele all'app apple podcast ma poi a marzo di quest'anno dico riproviamola scarico overcast sull'iphone sull'ipad sul mac e qua benvenga ovviamente apple silicon benvenga la possibilità di scaricare le applicazioni sul mac pensate per ipad ed ecco che è il mio client di podcast di riferimento purtroppo manca una sola cosa che è la possibilità di avere la riproduzione su homepod senza airplay però per il resto ragazzi c'è tutto poi in questo momento devo essere sincero sono passati due giorni anzi un giorno e mezzo dal rilascio di ios 17.2 con l'app diario e quindi con la possibilità di avere i dati delle applicazioni e quindi ad esempio mi dice che ho ascoltato una puntata di closer il podcast di win media pensato per gli abbonati che però settimana scorsa giovedì scorso ha fatto una puntata aperta a tutti non l'avevo sui miei dispositivi perché mi ero disiscritto dal feed pubblico perché è passato in abbonamento e quindi sono iscritto a win media e quindi ascolto closer per abbonati e quindi io dico sai cosa c'è ascoltiamolo con on pod quindi ho chiesto all'assistente virtuale di mettere l'ultima applicazione o meglio l'ultimo podcast che ti chiama closer attraverso apple podcast e quindi adesso closer nel mio feed dell'applicazione diario e quindi in questo momento dico ok proviamo a riscaricare apple podcast però dico no siamo nel 2023 esistono i client esistono gli sviluppatori quindi io voglio continuare ad utilizzare l'applicazione di overcast marco arment sta pensando o meglio sta sviluppando una versione totalmente innovativa per i dieci anni che saranno nel 2024 non vedo l'ora di provarla l'applicazione c'è anche per apple watch e ti dà la possibilità non solo di streamare ma anche di scaricare i contenuti e funziona meglio di apple podcast quindi io ho la mia applicazione su iphone su ipad su mac su apple watch si sincronizza in maniera istantanea cosa che spotify non permette di fare purtroppo da questo punto di vista non c'è continuity però sti cazzi perché overcast sta diventando la mia app di riferimento per i podcast funziona molto bene porta via meno risorse porta via molto meno spazio ed è un'applicazione che secondo me nel 2024 sarà ancora più bella ancora più importante e quindi la mia quinta applicazione per il 2023 è overcast di marco armen che vi lascio linkata nelle note dell'episodio con le mie quattro altre applicazioni e spero che ci possa essere qualcosa di utile anzi se ci sono applicazioni molto interessanti che vorreste consigliarmi fatelo fatelo su ex fatelo su threads domani a partire da mezzogiorno fatelo su mastodon fatelo ovunque trovate tutti i riferimenti nelle note dell'episodio io vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi e come sempre vi do appuntamento alla prossima settimana perché mancano solo due settimane e quindi due puntate alla fine dell'anno e quindi entriamo nel vivo perché è vero adesso c'è iOS 17.2 funziona bene i problemi sembrano essersi totalmente distolti ma io non mi dimentico che quest'anno noi abbiamo avuto iOS 16 quindi in questi giorni mi infiammo un po' mi arrabbio e noi poi ne parliamo tra sette giorni ciao ciao